buonasera luigi buonasera benedetto e allora vi invio il progetto revisionato secondo l'ultima l'ultimo incontro e ve lo semplifico esclusivamente riguardo alle alle modifiche che ho fatto in quanto il primo l'avevate già avevamo già esaminato e allora la il banco nel reception rimane in questa parte qui ovviamente eliminato la pannellatura e ho semplificato il bancone nello specifico eliminato il frigorifero ho ridotto la profondità della colonna in quanto questo mi permette di mettere una scrivania più grande qui ho rivisto dal punto di vista estetico il bancone che secondo me più interessante in quanto i primi questi primi due elementi sono profondi 60 questi qui o meglio questo in profondità 40 quindi crea lo spazio per le gambe per gli sgabelli che sono in questa posizione in più questo gioco di profondità mi crea anche un piacevole aspetto in quanto la prima parte un pochino più sporgente sembrerà sopraelevata perché lo zoccoletto invece lo allineo nella profondità 40 quindi lo allineo così pensavo di inserire nello zoccoletto e ho inserito una strip led molto discreta nella parte appunto inferiore che illumina lo zoccoletto giù ovviamente l'utilizzo dell'ufficio sarà prevalentemente diurno però la sera è sicuramente una bella vetrina tra virgolette in quanto con le luci accese con le luci puntuali accese e tutto il resto spento creerà un effetto sicuramente interessante all'interno delle bancone ho inserito degli accessori nello specifico un cassetto in questa parte c'è il vano per la stampante è un piano estraibile in modo tale che sia un ulteriore piano di lavoro per l'operatore e la parte superiore invece prevede dei vani a giorno e se vogliamo potremmo anche inserire i cestelli per la l'archiviazione a cartelle sospese quindi questa è la parte del del bancone nel retro bancone vedremo ho arricchito la parete da una chiamiamola installazione in verde verticale nello specifico un prato e che è la stessa che ho fatto pure frontale altro aspetto dal punto di vista progettuale questo bancone formato da elementi da 60 ora lo vedremo nel prospetto ho voluto creare un qualcosa di simile in questa parte in modo tale da ottenere quasi un bancone servito da operatore nello specifico benedetto e questo è un bancone invece diciamo se il service dove il cliente parte vedere i video che generano nel monitor posso prendere dei degli opuscoli in alcune menze che ho inserito qui entrambi li ho arricchiti da questo prato sintetico per creare questa continuità tra quello che c'è fuori e dentro questo anche al fine di diciamo riscaldare un po' l'ambiente che al momento è fatto da materiali e colori abbastanza freddi la zona relax ho ruotato le poltrone in modo tale che seduti si veda fuori ho inserito un tappeto che ha la funzione di delimitare la zona relax è un tappeto comunque per esterno molto robusto molto resistente all'usura e di facile pulizia ho messo un vaso qui e qui ho mantenuto il tavolo alto con i due sgabelli dal punto di vista dell'illuminazione diciamo che quella che c'è assolutamente sufficiente ma ho inserito della illuminazione puntuale nello specifico si tratta di faretti a sospensione cilindrici alti 25 diametro 5 centimetri in bianco opaco con una lampadina led di quelle gu 10 che fanno un fascio abbastanza concentrato quindi ce n'è uno qui uno qui due sul bancone uno sul tavolo alto uno sul tavolino dell'area relax e uno sulla pianta nei prospetti li vediamo meglio andiamo al prospetto della parete a che quella frontale ho eliminato quella composizione diciamo inclinata e ho messo una composizione abbastanza semplice dal punto di vista dei materiali economici però secondo me è di molto effetto prevede un listello perimetrale in betulla betulla perché è lo stesso materiale che per esempio utilizzato nel piano di del piano della reception anche in questo caso oltre al verde vegetale inserire dei materiali naturali come appunto il legno vero di betulla ci serve a riscaldare l'ambiente che diversamente sarebbe composto tutto da materiali e colori sicuramente freddi quindi metto questo cornice perimetrale in betulla all'interno dei pannelli in erba sintetica nello specifico sono dei pannelli 30x30 di chea che si chiamano rannen piccola parentesi nei prospetti trovate delle dei nomi evidenziati in grigio sono i modelli ikea di riferimento in modo tale che potete accoppiare il disegno con il link che vi mando quindi profilo perimetrale erba sintetica questi tre sono dei pannelli i fono assorbenti è sicuramente una tendenza negli uffici e anche hanno sicuramente un effetto è un risultato pratico nel senso che riducono e migliorano sensibilmente il conforto acustico perché riducono il riverbero specialmente se la televisione quando girerà dei video promozionali ha un sonoro ma in più creano un effetto estetico interessante l'altro colore che invece infatti ho inserito nel progetto oltre al bianco il betulla il verde è il blu che è quello del vostro logo questi pannelli sarebbero blu così come la poltrona le poltrone dell'aria relax mobile basso sospeso viene montato alla stessa altezza dal dal pavimento che la che il bancone reception e c'è sempre sotto una script led questi come vi diceva sono quei pannelli una lampada tavola tv queste qui sono delle mensole in metallo molto valide d'ikea che servono proprio per mettere opuscoli deplian che il cliente possa prendere autonomamente quindi questa è la parete a il prospetto della parete a questa qua entrando frontale la parete c è quella che vedo con spalle alla parete a quindi sono posizionato qui e guardo questa parete è quella delle vetrine è molto semplice il vaso tavolo alto 110 questi sono tutti allineati a 110 con sgabelli la proiezione della scrivania con la poltrona e il monitor questa che vedete qua è la proiezione del bancone le lampade di cui vi parlavo l'altezza 25 a sospensione l'altra parete è la parete di una parete di è quella che dà le spalle al bancone questa qua come vi dicevo anche in questo caso ho inserito questa composizione a parete di verde verticale con dei listelli perimetrali in betulla e l'erba dell'erba sintetica all'interno della quale si potrebbe posizionare il vostro logo questa è la sessione della scrivania la porta ovviamente tutto il progetto ha un equilibrio dal punto di vista delle altezze che ho uniformato per coerenza ed equilibrio appunto del progetto complessivo per finire vediamo la parete di uno che in effetti è una sezione è una sezione di uno che evidenzia il bancone come vi dicevo è formato tutto da elementi da 60 centimetri i primi due sono più profondi questi sono più rientrati mentre lo zoccoletto con la relativa illuminazione led è allineato dai pannelli ai mobili meno profondi quindi questi due elementi qua sembreranno quasi sospesi come vi dicevo da utilizzare un top 3 cm 8 in vero legno di betulla d'ikea e ho semplificato la colonna sempre con il vano per la macchinetta del caffè ma con delle antine con delle antine sopra e sotto e ripiani le due sospensioni e l'elemento chiamiamolo scaffaletto per anche in questo caso per mettere dei degli opuscoli e dei facchini quindi questi sono le tavole del del progetto vi mando anche un piccolo breve rendering e 3d dove vedete un pochino anche i volumi in più vi mando la lista dettagliata di tutti gli articoli ikea nello specifico per semplicità ho fatto creato i subtotali dei vari prodotti evidenziati in giallo sono tutti gli articoli che compongono il bancone scrivania poltrona pannello tv quello che vi spiegavo zona relax e corridoio vi allego pure il preventivo di bologna per quanto riguarda il tavolo alto e i due sgabelli e le lampade ho dovuto inserire un preventivo di un'altra azienda perché ikea faceva dei tavoli h110 e dei relativi sgabelli anche bellini ma li ha tolti recentemente dalla produzione quindi non fanno niente di utile al nostro caso nel preventivo di bologna trovate pure un'alternativa per le poltrone lounge in effetti le sono molto belle sono di caligari se li avevano pronta consegna in offerta in esposizione queste poltrone sarebbero l'alternativa a quelle che ho inserito nel progetto principale che sono d'ikea che nello specifico sono il modello bedbo vi mando pure il preventivo della made paper per quanto riguarda la pellicola con effetto protezione solare ci sono due alternative con le relative caratteristiche e infine vi mando un riepilogo economico dove trovate diviso per voci mobilichea vaso preventivo di bologna con sgabelli tavolo e lampade e il costo di tutti i servizi di consegna e montaggio modifiche eccetera dategli un'occhiata approfondita e se volete per gli ultimi dettagli ci vediamo nuovamente in questo la vostra sede in modo tale da vedere piccoli cambiamenti potremmo procedere ad ordinare buona serata e buona lettura